Noi siamo OSS, vincitori di concorso in graduatori di concorsi pubblici, disoccupati perché stanno preferendo a noi il lavoro interinale, più costoso e meno qualificato. Con il risultato che chi è stato scartato dai concorsi lavora e noi siamo qui a manifestarsi. Quali sono le vostre mansioni? Assistenza diretta a pazienti, istituto di pratica, trasporto di campioni biologici, oggi assegnati a tutti meno che a noi, ausiliari, agenzia delle pulizie e lavoratori interinari. Perché siete stati scusi? Questo ce lo dovrebbero dire loro. Voi cosa chiedete in sostanza? L'applicazione dell'articolo 97 della Costituzione, pubblici impieghi, si accede mediante concorsi.